ciao a tutti e benvenuti al nuovo video dell'impero delle tenebre sono kyo e oggi parlo nuovamente di platform perché con i saldi che ci sono stati all'inizio di ottobre mi sono recuperato un platform che in realtà è remake della avventura platform 3d di pacman che era uscita all'era della playstation 2 se non ricordo male mentre questo repack perché appunto il gioco si chiama pacman world e questo è il repack perché remake era uscito a metà più o meno del 2022 il pacman world originale invece era uscito nel 1999 e no era per playstation 3 non era per playstation no per la prima playstation ok no per la playstation 3 io mi confondo un casino con i titoli no questo infatti era stavo guardando un po anche di filmati con la musichetta classica è poveretto e se è arrivato tardi era uno dei non in realtà il primo perché c'erano già stati dei platform 2d se prendete tra l'altro il diciamo la collection di pacman potete anche giocarli perché il pacman museum plus ti dà l'accesso a diversi giochi tra cui alcuni che devo per forza guardare accettarli insomma questa però su playstation 1 era una bella avventura platform molto ma molto ispirata a super mario 64 o meglio vediamo un attimo perché oggi sono stanco e poi mi confondo facilmente ma super mario 64 in realtà era del 96 e quindi sì ok questo è uscito tre anni o meglio l'originale era uscito tre anni dopo e sicuramente si ispirava a a quello ma anche l'avranno fatto in tantissimi anche sonic adventure si ispirava a super mario 64 che era stato una rivoluzione nei giochi platform se già un italiano perché mi fai scegliere l'italiano di nuovo però va bene dai andiamo andiamo a salvare la famiglia un po' come se fossimo in fast and furious diciamo che prima del cartone animato che arrivò molto tempo dopo questo contestualizzava molto di più il diciamo il mondo di pacman con i fantasmini con gli scontri per così dire tra gli esseri pac e gli spiritelli e loro poeti sono spaventati e loro poeti sono spaventati tra l'altro questo ripeto è un remake e alcune di queste scene non c'erano nell'originale hanno cambiato anche il sistema di movimento di pacman che è molto più fluido oltre al fatto che la grafica è completamente rifatta e c'erano queste sequenze ispirate appunto al pacman classico che però poi erano solo dei piccoli rimandi perché per il resto andavi a fare il platforming classico prendendo poi la frutta per fare punteggi più alti si arrampica ok i punti servono appunto a quello graficamente vabbè questa è la versione ps5 che è ancora un pochettino meglio però è stato appunto rifatto da zero ha i suoi piccoli difetti perché poi è un platform vecchio stile e quindi le inquadrature sono fisse per certe zone i puzzle ambientali sono molto semplici paragonati a quelli di platform diciamo 3d usciti successivamente però ha il suo perché ancora oggi e quindi infatti ce l'avevo nella wishlist da tempo e dopo il settembre ricco di platform godibili come Astrobot e Epic Mikey Rebrushed visto che era andato in saldo ho detto vabbè per a malapena 9,90 euro 9,99 euro perché no ok questo anche questo l'avevo preso tanto da Mario 64 che appunto aveva il cappello che ti rendeva d'acciaio questo ci fa da checkpoint questo serve anche per attivare alcune piattaforme ma volendolo posso sconfiggere anche saltandoci sopra perché in realtà è più semplice di tirargli le palline e qui sono andato a vedere un paio di filmati effettivamente questa è una sequenza che c'era anche diciamo nel vecchio però è rifatta in maniera leggermente diversa la struttura, la grafica cioè era un gioco della PS1 appunto il primo Pac-Man World perché se non ricordo male c'era anche il 2 però insomma questo repack fatto da Namco o meglio Bandai Namco all'epoca è molto godibile a livello di platforming è semplice ok ok ah ok perché qua è uno e l'altro è due vanno prenduti in sequenza come dicevo è un platforming molto semplice però con le sue sfide perché non è facilissimo proprio perché è platforming maia ok il senso di profondità comunque è notevole nel senso che anche proprio lo scenario non ti dà l'idea di essere piatto che per l'altra è brutto da dire però come Crash Bandicoot che alla fine molti scenari erano proprio il vecchio tipo di platform qua ti dà l'idea di un mondo 3D che però in realtà non è realmente 3D forse mi confondo con appunto quello della Playstation 2 che era il 2 e era invece realmente 3D qua siamo ancora in quello che oggi chiamiamo 2.5D e non mi dispiace anzi probabilmente lo apprezzo di più adesso che non diciamo all'epoca anzi da ragazzino il Pac-Man World non l'avevo apprezzato così tanto ok no non pensavo finisse subito il livello ehm no eh non schifo ok no ci sono troppi frutti simili no va bene dai ok questa è stata veramente a culo perché non ci ho provato non sono riuscito a fare il punteggio figo perché appunto non ho aperto ehm la porta speciale alla fine però comunque così questa è la zona hub invece già è un pochettino più tridimensionale dove andiamo a scegliere i vari livelli la zona spaziale perché praticamente ogni mondo ha una sua tematica partendo dal fatto che questa è l'isola diciamo eh circo barra giostre e perciò eh hanno tutti appunto una tematica particolare quindi non male devo dire che finalmente dopo anni dalla sua uscita l'ho recuperato ehm e non mi dispiace affatto devo dire che eh mi fa un po' strano che la version ci siano dei DLC per le musiche da 2 ore 99 eh e per un costume invece a 99 centesimi visto che questo dovrebbe essere come al solito un remake completo e migliorato perché lo è non è semplicemente il porting del vecchio gioco neanche una remastered perché il gioco è stato rifatto completamente da zero infatti all'epoca una anche delle critiche che era stata in realtà fatta era più che altro per il prezzo eh perché comunque 40 euro per il remake di un gioco vecchio per quanto migliorato eh sembrava tanto quando nell'era del digitale trovi dei titoli molto validi intorno ai 20 euro c'è da dire che però comunque eh ci sta ci sta e effettivamente eh prezzo pieno non l'avrei mai preso perché sì ok mi piace però senza eh l'input diciamo eh della mia passione platform rinnovata grazie ad astrobot eh l'avrei potuto anche lasciare indietro ancora per un altro paio di anni guarda caso è finita in offerta penso che anche molti altri platform si hanno andati in offerta appunto nel periodo di uscita di astrobot per cercare di vendere qualcosina in più e effettivamente ha funzionato perché così l'ho recuperato a un quarto di quello che costa originariamente ci sta anzi se lo ritrovate in offerta prendetelo subito perché ha un bel platform si gioca bene ha un paio di difetti dovuti al fatto che hanno mantenuto la struttura come quella del 99 e non l'hanno quindi eh realmente rifatto da zero o meglio l'hanno rifatto da zero ma mantenendo la stessa per così dire curva di difficoltà di level design un po' come hanno fatto con Spyro Reignited o Crash Insane Trilogy che effettivamente vanno a migliorare il gioco anche sotto un po' di gameplay però continuano ad avere quei picchi di difficoltà ogni tanto perché all'epoca funzionava così e le hanno mantenuti e ci sta quindi Pac-Man World Repack è un ottimo remake di un platform che comunque era piaciuto molto all'epoca e devo dire che col senno di poi anch'io lo rivaluto perché all'epoca più che altro eravamo nel boom dei nuovi giochi la PlayStation 1 ci aveva portato innovazione non solo grazie al 3D ai filmati al supporto CD per la musica gli effetti sonori e le voci ma proprio per il fatto che saltavano fuori nuove tipologie di giochi era un periodo di pura sperimentazione e un platform di Pac-Man non sembrava così eccezionale invece a rivederlo adesso è comunque un titolo degno di nota anzi tra i vari platform di Pac-Man perché ripeto ce ne erano stati anche prima sicuramente Pac-Man World è quello migliore il primo è iconico e quindi ci sta che l'abbiano appunto fatto un remake e al giusto prezzo poi dipende anche dalle vostre finanze e da come e da quanto amate i platform comunque è un acquisto valido e un titolo molto interessante da avere in collezione per gli amanti anche di Pac-Man non è che lo amo così tanto ma andando a vedere alla fine fine ho quasi tutti i giochi che sono usciti e soprattutto quelli classici grazie anche al Museum Plus ho recuperato anche un bel po' di titoli che non avevo mai giocato proprio perché è un titolo fatto apposta per essere antologico e quindi insomma sono molto soddisfatto dell'acquisto visto anche l'esiguo prezzo a cui l'ho pagato ma in generale sono soddisfatto della qualità di questo remake che ripeto 40 euro possono sembrare tanti ma ci sta per un progetto del genere Spiro e Crash costavano sui 60 ed erano tre giochi quindi in paragone sembra che costavano 20 euro l'uno però non te li vendono separati diciamo che anche Clonoa per dire ti veniva venduto a un prezzo decisamente alto quindi a differenza appunto di Clonoa questo è stato rifatto da zero è molto ma molto meglio perciò io ve lo consiglio se Astrobot ha risvegliato in voi la voglia di platform questo è un titolo da segnarsi da recuperare e come avevo detto anche nel video dei puffi ci sono adesso dei giochi che mi attirano molto di più dopo essermi invaghito nuovamente dei platform che comunque sono uno dei primi ai primi amori insieme ai picchiaduro e quindi mi fa molto ma molto piacere cercare anche di recuperare giochi usciti da un po' di tempo ma che sono degni di nota quindi direi che io vi ho mostrato un po' com'è il gioco ho parlato delle piccole differenze con la versione originale che alla fin fine sta un po' nei comandi nelle funzioni che hanno messo anche se non ci sono cose tipo cheat o vere e proprie agevolazioni in game ma il titolo è tarato meglio risponde meglio ai comandi le funzioni appunto di gioco sono modernizzate se provate il titolo per playstation 1 se ne avete l'occasione noterete che risulta molto più grezzo perché all'epoca i giochi erano così punto questo invece è un buon remake e effettivamente merita appunto di essere rigiocato anche se ha appunto quell'alone di classicità perché non hanno stravolto non hanno modificato il gioco per cambiarlo paragonandolo ad esempio a Silent Hill 2 che in confronto all'edizione classica o alla remastered è molto diverso a diversi pezzi a diverse sezioni che sono state cambiate apposta per renderlo più moderno Pac-Man World R-Pac rimane fedele all'originale ma riesce a dargli quella spolverata quella patina di novità che alla fin fine fa sì appunto che il gioco sia godibile anche per nuovi utenti le nuove generazioni che un platform diciamo dell'era PlayStation 1 al giorno d'oggi non lo considererebbe per niente perciò io vi ringrazio per avermi seguito sin qui e come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto se volete lasciate anche un commento per dire la vostra se avevate giocato e apprezzato il Pac-Man World originale o se anche voi avete poi preso questa nuova versione avete aspettato i saldi come ho fatto io o siete stati contenti di prenderlo anche a prezzo pieno fatemi sapere io per adesso direi che ho detto tutto quindi vi saluto e vi aspetto al prossimo video ciao Grazie a tutti.